Ovidio e il vino, un ottimo binomio per aprire la Kermesse dedicata alle Vede Pelini, una scelta casuale? No, una scelta per evitare il cosiddetto campanilismo, chiamiamolo così perché il motto della storiazione da progetto è unire e non dividere. Quindi abbiamo pensato e reso e insieme abbiamo studiato questo connubio sperando che sia il connubio vincente. Ovviamente il clou della serata, questa sera con Godà. Sì, questa sera speriamo di superare quelli che sono stati numeri già alti delle precedenti edizioni. Abbiamo invitato quest'ospite di nicchia, chiamiamolo così, Cristiano Godano de Marlene Kunz e vi invitiamo a partecipare numerosi. Si punta sul vino, sulla gastronomia, sulla riparotazione del centro storico ma come al solito anche sulla coreografia. Non ci sono gli ombrelli, non è proprio il caso, visto le alte temperature ci sono le altalene. Che feedback avete ricevuto da questo punto di vista? Sì, guardi abbiamo avuto una grande risposta, la gente è entusiasta e addirittura hanno lanciato loro un hashtag quest'anno dicendo che l'altalena come senso di libertà, di spenseratezza che in questo periodo forse è anche il caso di essere un po' più spenserati dopo tutto quello che accade in giro. Visto che gli ombrelli l'anno scorso hanno fatto far piovere abbiamo pensato a mettere l'altalene in modo che magari e forse il caldo venisse dalla nostra parte a quanto pare ne è venuto troppo.